Cari amici, purtroppo in questi giorni è morta una mia cara zia a cui ero molto attaccato e sono veramente rimasto molto male da questa situazione, non tanto per il fatto di averla abbandonata perché se siamo persone di fede sappiamo che potrebbe essere andata in meglio e la potremmo rivedere un giorno quando andremo in un posto dove sapremo il tutto, non saremo molto obnubilati da questa vita e quindi avremo più conoscenza e capiremo come stanno veramente le cose. Ma il fatto che mi rattrista tanto è l'atteggiamento, il comportamento delle persone che fanno cose che non sono conformi alle ingiunzioni vediche, alle ingiunzioni delle sacre scritture più antiche ma le persone purtroppo di fronte alla morte e anche di fronte al giusto management della vita e quindi la preservazione della morte finché è possibile, bene queste persone non sanno quello che devono fare e a mio avviso sbagliano tutto, sbagliano tutto in tutti i sensi, sia della prevenzione della morte, quindi corretta azione medica sia per il fatto del loro atteggiamento emotivo e quello che fanno. Ecco vado a spiegare, no? Allora c'era questa zia purtroppo che era malata di tumore da tanto tempo e io... Allora ha già avuto tumori, poi purtroppo ha avuto in questi ultimi anni una ricaduta. Ebbene da come dicevano i parenti non era tumore. Io invece l'ho capito subito e sono credo un anno che dico guarda al tumore a mia madre che siccome questa zia è sarda e tutti mi hanno detto no non è così perché fai i controlli no non è così, no non è così. Bene io ero sicurissimo, l'ho detto più volte, tanto è vero che poi qualche mese fa sono andato a trovarla e appena l'ho visto ha detto questo è il tumore sicuro. Cioè nonostante hanno negato tutti i parenti, anche chi lo sapeva, non ha detto niente perché questa zia non l'ha detto nessuno perché i medici gliel'hanno detto che era tumore e non l'ha detto nessuno. Questa cosa per me è assurda perché io sono medico, tra l'altro sono un medico con una visione olistica perciò non guardo solo ciò che propone la medicina, in questo caso la carimioterapia tante volte è veramente nociva essendo essa stessa cancerogena perciò tu magari guarisci da un tumore ma sei sicuro che te ne verrà un altro un po' come forse è capitato a questa zia che è guarita da un altro tumore ma poi non poteva che venirgli questo. ma soprattutto non c'è prevenzione, non c'è prevenzione perché questa medicina assurda fa sì che sia guardato proprio poco la prevenzione dei tumori e si sa che la carne è cancerogena, l'hanno detto in tutte le salse e cosa succede? Che i malati di cancro, i malati in ospedale danno la carne questa è una cosa assurda per me, è una cosa assurda e non solo, i medici gli hanno dato una dieta a base pure con pollo, carne, latte, latticini tutte la caseina è un potente cancerogeno, ma come si fa? e allora forse siamo sotto il dominio delle lobby, delle case farmaceutiche che vogliono curare per forza con chemioterapia e io sono veramente triste per questo fatto e mi era triste il fatto che ho visto morire questa zia che se me l'avesse detto prima, cosa che io dicevo mi hanno detto no ma tu non capisci niente i medici dicono che è così, non è così invece hanno mentito pure loro bene se me l'avesse detto prima io avrei dato cure alternative che sono molto efficaci e portano addirittura alla guarigione perché se tu metti il tumore a digiuno quello schiatta, non muore se tu gli levi il glucosio, quello muore se tu gli dai ossigeno, quello muore perché tende ad essere anerobio perciò ci sono tanti meccanismi potevi fare un'ossigenazione del sangue potevi levare tutto il glucosio potevi levare carne e uova pesce potevi dare tante sostanze che sono anticancro come l'artemisia annua, come l'aloe vera, zenzero ce ne stanno tantissime che in sinergia provocare la morte del tumore e queste cose non vengono dette perché se basta un po' di bicarbonato per basicizzare il tumore che non vive, non sta bene in ambiente basico benissimo, se basta un po' di questo allora capite bene che tutta l'industria che fa un sacco di soldi della chemioterapia quella muore muore lei e non il tumore ma il tumore fa comodo, fa comodo perché ormai siamo messi male c'è tutta una speculazione sulle spalle dei poveracci e quindi noi siamo costretti a subire tutte informazioni false e poi chi ha il coraggio di dire queste cose come vari medici viene messo al vando magari pure radiato non sono d'accordo perché uno deve avere la visione olistica deve capire quando serve a volte la chemioterapia può pure servire ma bisogna dare indicazione giusta non tutti i tumori sono uguali bisogna fare la giusta diagnosi ebbene ci stanno tanti tumori che con uno stile di vita corretto intanto non ti vengono poi è importantissimo la genetica ma bisogna sempre valutare ebbene questa mia zia io sono sicuro che l'avrei addirittura salvata però non mi hanno detto niente e adesso magari mi criticano perché io dopo che quando alla fine hanno dovuto dirlo per forza perché era in condizioni patetiche io ho detto vedete ragazzi io ve l'avevo detto ma quando ho detto guarda al tumore addirittura mi hanno tacciato eh zitto non si dice non devi dire queste cose facciamo le corna e tutto quanto vi rendete conto come state ma come stiamo qua ma noi prima di fare la terapia dobbiamo fare la diagnosi e se tu non hai il coraggio di dire questo è il tumore non puoi fare la terapia e se gli curi il diabete solo fino a se stesso come avesse il diabete non perché il diabete è secondario perché ha il tumore e non gli funziona più bene il pancreas eccetera allora siamo fuori ma io che sono medico e mi avrebbero dovuto dire niente tutti zitti e poi approfitto per questo per darvi informazioni riguardo alla morte ebbene la morte è una grande cosa perché è la liberazione verso un posto migliore sì proprio così cari ragazzi perché se voi studiaste le dottrine vediche che spiegano il perché della vita cosa stiamo a fare in questi mondi capireste che questa vita è sofferenza anche se siete ricchi e bravi e famosi ci avrete sempre motivi di sofferenza mi fa male il ditino e soffrirete bene la morte è il momento in cui potete scegliere di andare in un bel posto ma questa sta a voi questa scelta perché il Signore tramite le scritture sacre tramite i suoi avatar Gesù Cristo, Buddha e tanti altri vi dà la via giusta ebbene come dicono tutte le religioni il mondo a cui dovete allenare non è certo questo questo è un mondo di sofferenza quindi la morte è proprio l'occasione per andare via da questi mondi avete mai visto che quando dormite quando dormite se voi volete uscire fuori da quel mondo non è che potete prendere il treno e uscire e venire in questo mondo che è un'altra dimensione state sognando state in quel mondo e non c'è verso per uscirne tranne quello di svegliarvi ok? benissimo benissimo come si fa a svegliarsi da questo gioco virtuale e da questo sogno perché i Veda considerano questa vita reale come un altro sogno e andare nel mondo reale che è il mondo spirituale bene è quello di svegliarsi come si fa a svegliarsi bisogna morire e infatti quando tu ti svegli dal sogno che tu sogni di notte tu muori in quel sogno per ritornare qui oh questo è giusto no? benissimo allora signori miei come fate voi a andare in un posto migliore? dovete avere una giusta educazione durante la vita quindi studiare bene le scritture sacre sempre che sia vero però non avete alternativa non è che c'è un altro studiate agricoltura e risolvete quello che vi dà la soluzione per affrontare la morte che è l'unica cosa che vale durante tutta la vita tu puoi fare quello che ti pare ma se tu all'atto della morte non sai quello che devi fare benissimo potrai soffrire di conseguenza e andare in un posto brutto perché e funziona così all'atto della morte tu avrai dei pensieri quei pensieri ti vengono riportati e riproposti per darti una vita adeguata nella vita successiva mi vado a spiegare quando io mi addormento ho dei pensieri no? quei pensieri sono quelli importanti che fanno sì che tu vada nella vita dopo e cioè il sogno perché quella è la tua vita di quel periodo di tempo che dura un periodo di tempo così come dura un periodo di tempo questa vita qua terrena bene in quella vita tu avrai quel tipo di sogno basato su quei pensieri che avevi all'atto della morte se per esempio devi fare un esame e sei preoccupato ebbene tutta la notte farai i sogni sull'esame perché? perché cercherai di affrontare quel problema allo stesso modo quando si muore in questa vita i pensieri all'atto della morte ti generano un corpo nella vita prossima in relazione a quanto tu all'atto della morte avrai avuto bisogno di avere cioè se tu sei fissata io voglio i miei cari amo tanto mia sorella così avrai un altro corpo pieno di sorelle se tu all'atto della morte penserai io voglio tanto bene a questo mio cerbiatto amo tanto il mio cerbiatto bene ti verrà riproposto un'altra vita magari in forma di cerbiatto perché tu amavi tanto quel cerbiatto e Dio cioè quel sistema quel core quel pc che sta alla base che è il mondo spirituale che è l'insieme di tutte le coscienze e là c'è da vedere la mia teoria del punto forma potete vederla sul mio canale YouTube ebbene ti riproporrà per soddisfarti una vita relativa in base però al tuo karma cioè se tu durante questa vita hai fatto cose buone magari avrai una vita da cerbiatto bella o una vita da cerbiatto brutta questo per farsi capire è molto complesso però per capire quindi all'atto della morte bisogna essere concentrati su Dio non bisogna essere concentrati sul parente il fratello la sorella e non c'è cosa peggiore detto dai vedano lo dico io che morire tra l'affetto di tutti i cari questo perché tu vedi vedi ciò che più hai amato e quindi tutti ti tengono la mano tutti che piangono e tu dici ah quant'era bella questa vita passata quant'era bella e come e come io avrei veramente voluto stare qui con questi cari questa è una cosa veramente sbagliata è una cosa veramente terribile perché il Signore ti ripropone un'altra famiglia per soddisfare quell'esigenza quel tuo pallino all'atto della morte non è così bisognerebbe morire isolati con la mente fissa su Krishna su Dio allora sì se tu desideri andare da Dio nel mondo spirituale Dio ti accontenta e se tu reciti il mamantra re Krishna re Krishna 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 re re Rama re Rama re Rama i santi nomi del Signore sia santificato il tuo nome dice Gesù al Padre Padre nostro che sta nei cieli che non sta qui cioè nel mondo spirituale sia santificato il tuo nome ebbene se tu reciti il mamantra anche se tu hai commesso tanto karma eccetera Dio vede che all'atto della morte ti ripigli il suo santo nome è così potente che cancella tutte le tue reazioni karmiche e tu sei libero da andare nel mondo spirituale ovviamente questo è dato da karma cioè se sei stato veramente un bastardo Dio ti leva anche se tu magari ti sei allenato per un po' recitare il mamantra la possibilità di averlo perché tutto è dato da karma però se hai raggiunto un tot di benemerenze bene il Signore ti permetterà all'atto della morte di recitare il mantra o se proprio tu non sei capace di sentire questo santo nome che te lo ripete qualcun altro sicché io a mia madre ho detto visto che questa parente era morta e stava in Sardegna gli ho detto di fargli ripetere il santo nome re Krishna che era l'unica cosa che serviva in quel momento e magari di parlare di Krishna ma di parlare dell'essenza della vita gli ho detto di fare questo e speriamo che l'abbia fatto lei dice di sì però questa è l'unica cosa che serve non serve il piagnisteo generale di tutti i parenti che stanno là a battersi il cuore come succede che poi veramente questi parenti sono molto carucci sono bravi sono stati vicini io in effetti non sono stato vicino ma veramente sono un po' risentito perché potevo aiutare e invece i parenti non mi hanno nemmeno detto che questo che lei aveva il tumore nonostante io l'avessi affermato e quindi sono risentito sono risentito e io vado fuori dai luoghi comuni e quindi l'unica cosa che potevo fare è dire a mia madre di fare questa cosa ebbene così è però sarò criticato perché non sono andato al funerale e non ho telefonato nessuno ma non voglio telefonare nessuno perché sono sono discorde con questo ammanagement della cosa questa conduzione della morte che ha tutti i luoghi comuni loro si basano solo su su questa sorta di ipocrisia per me allora si va in chiesa si fa questo grande funerale i fiori i fiori bene i fiori quando muoio io non me li date perché tra l'altro ammazzate delle piante mentre un'altra cosa è il fiore offerto a Krishna in onore del morto così come ho fatto io vedete qua e recitare le preghiere in onore del morto perché quello serve se è vero che c'è Dio serve che questa persona vada nel mondo spirituale o assuma benevenenze quindi all'atto della morte è importante che ci sia qualcuno che diciamo preghi per lui in questo senso ma le preghiere devono essere quelle giuste non basta pregare e poi comportarsi male perché quelle vengono accettate male no se tu fai tanto il buono e poi dopo ti mangi la carne ad esempio sei un killer stai ammazzando esseri viventi cosa vuoi che ti dica Dio ma me sta prendendo in giro ti dice questo però bisogna comportarsi bene non essere ipocriti tutta questa cosa di casta la famiglia la famiglia bene io sì la famiglia però io aiuterei tutti no perciò se quello è mio parente ciò non significa niente se c'è un altro che ha bisogno di me io sono lì in quel momento faccio quella cosa bene io mi offro anche se non lo conosco e starei ad accudirlo se quello ha bisogno così come è successo con mio zio che è caduto e tra l'altro la veramente siamo in una società perversa l'abbiamo portato in ospedale si è rotto la gamba io ho detto guardate c'ha la frattura scomposta della gamba i medici hanno detto no l'ospedale di Terracina non è così è stato quattro ore così scomposta con una gamba più corta si è ritirato il muscolo io ho detto guardate che è così attenzione che viene l'embolia polmonare e loro no non è così ho detto guardate che sono medico no non succede niente bene dopo quattro ore si sono resi conto che avevo ragione l'hanno operato pure male quindi hanno messo io l'ho visto dalle lastre perché dopo che l'hanno operato in ascensore il portantino me l'ha fatta vedere ebbene questo è morto di embolia polmonare in una grave sofferenza bene l'ho accudito solo io perché non c'erano altri parenti io e dei miei amici monaci però la differenza fra il managgiamente della cosa che io sono andato là ho recitato il mantra di Krishna con questi monaci ecco vedete qua benissimo e quindi ecco questa è un'altra conduzione e mio zio praticamente ha sentito il mantra di Krishna gli è stata data la collanina di Tulasi che è sacra Krishna protegge dalla venuta degli Yamaduta Yamaduta sono i messaggeri di Yamaraja che sarebbe signore degli inferi che ti fa scontare se hai fatto cose brutte in un altro mondo in un'altra vita cose terribili perciò è stato protetto ecco questa questa è una buona conduzione della cosa perché se è vero che c'è Dio io ho protetto mio zio da tante cose ma questi parenti magari non credono a queste cose però la loro conduzione com'è è una conduzione che porta tristezza perché loro stanno lì a lamentarsi quanto è bella mia zia quanto era buona mia zia quanto gli volevo bene tutti piangono piangono solo ma quando c'è da fare cose non hanno fatto non hanno fatto perché non hanno diagnosticato il tumore e quando qualcuno li ha diagnosticato come me li hanno insultato non si dicono queste cose ma tu fatti i fatti tuoi e poi mi hanno insomma mi hanno trattato male le cose quando io ho detto all'epoca anche a mia zia stessa non devi mangiare carri perché ha già avuto il tumore questo è cancerogene non prendere il latte mi hanno trattato male mi hanno detto tu sei un Hare Krishna sei stupido pregherò per te mi hanno detto addirittura ebbene dovrebbero pregare per loro stessi perché se no la situazione è questa la situazione i dati di fatto sono questi eh ma i dottori ci capiscono sono bravi i dottori non ci capiscono infatti questa è morta in gravi sofferenze e poi tutta questa questa cosa che sarò criticato perché non ho fatto nemmeno una telefonata e non la farò non la farò perché faccio i miei video per il bene di tutti ma finché si prende esempio da come non deve essere trattata la cosa dovete prendere coscienza di chi siete qual è lo scopo di questo mondo se no questo mondo ci tritura ci tritura ci dà tanta sofferenza invece se noi abbiamo l'appoggio di Dio siamo possiamo morire col sorriso sulle labbra perché questo è un evento benefico noi stiamo trapassando stiamo andando in un posto migliore sempre che sappiamo come fare perché se noi stiamo in una grotta delle paure qua è questo mondo di afflizioni grotta delle paure però sappiamo che di là c'è un posto migliore beh siamo contenti di morire lo facciamo tanto dobbiamo morire tutti lo facciamo col sorriso sulle labbra se invece crediamo che di là non c'è niente e siamo in grave sofferenza ebbene ci aggrappiamo a qualsiasi cosa ma purtroppo ti puoi aggrappare quanto vuoi il fatto è che devi morire e tutto ciò che ti lega a questo mondo come posso essere l'amore per i parenti non ti porta a nient'altro che sofferenza nell'abbandonare questo posto che invece va abbandonato e tutti dovrebbero abbandonarlo va abbandonato sempre quando Dio te lo dice non è che tu ti devi suicidare o altro è per carità però sei pronto sei pronto al passaggio così come sei pronto a svegliarti da un sogno funzionano così basta che vedete la notte quello che succede quindi per passare da una dimensione all'altra bisogna avere la conoscenza e bisogna avere l'atto mentale e la mente cioè la mente cioè l'anima che tramite la conoscenza può decidere dove andare prenderà un corpo in base ai suoi pensieri così come tu metti della polvere di ferro sotto su un foglio e sotto metti una calamita in base alla forma della calamita la polvere di ferro prenderà una forma cioè tu prenderai il corpo in base ai tuoi pensieri quindi Dio ti darà in base ai pensieri all'atto della morte un tipo di corpo e se il tuo corpo sarà spirituale vorrai un corpo spirituale perché hai seguito le giuste ingiunzioni vediche e quindi desidererai andare da Dio in un posto dove non c'è bisogno più di avere il corpo e tutti stanno bene benissimo Dio ti permetterà di fare questo ma per fare questo devi studiare durante la tua vita studiare le dottrine sacre quelle autentiche senza farti sbarellare da altre dottrine rimaneggiate come può essere la Bibbia dove addirittura nei testi antichi viene detto che bisogna uccidere mangiare pure carne questo Yahweh queste cose terribili ma un Dio buono non potrebbe mai desiderare sacrifici animali e umani quindi bisogna ricercare la vera conoscenza io non è che la ho però fra tutte le dottrine ecco quelle vediche credo che siano le più giuste più rispettose per la vita ma addirittura siamo in un mondo che cambia le cose le sovverte totalmente tant'è vero che mi hanno detto pregherò per te cosa che io sono vegano quando dicevo di non mangiare carne uova e pesce perché faceva male alla salute e faceva male allo spirito e comunque sia faceva male agli animali che poveracci stanno bene dove stanno mi è stato detto questo e in effetti la realtà dei fatti è che io devo pregare per loro perché la morte ci avviluppa tutti quindi spero che questo video sia utile per quanti hanno una situazione simile ebbene andate a trovare i vostri cari recitate il santo nome datevi conforto perché tutto non finisce qui ma finisce quando vorremmo che finisca questo ciclo di reincarnazioni andando nel mondo spirituale laddove non c'è più corpo e quindi non essendoci più corpo non c'è più sofferenza va bene cari amici mi dispiace porto molto con questa mia zia a cui volevo molto bene va bene un abbraccio a tutti grazie 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 a tutti